sicuramente Ranoff pensa che c'è tempo di passare un attacco secondo me sei un coglione no, scherzo ovviamente scherzo allora, come si fa? noi praticamente per prendere in castello dobbiamo fare prima delle missioni ad esempio o mandiamo dei compagni in più che abbiamo in più per dei brasoni o li corrompiamo, come sempre o facciamo una missione con dei brasoni in palio o si va in guerra però se vedete qui ci sono questi simboli questo bosone può essere conquistato solo durante la missione questo vuol dire che adesso dovremo mandare i compagni per dei brasoni acquistare un brasone minimo e fare una missione e poi giocarci la missione perché altrimenti è impossibile quindi 3000 e tocca ne compriamo uno mandiamo dei compagni adesso Robin Hood andrà su questo scoglio fiero ho bisogno di volontari l'Inghilterra ha bisogno di voi ogni tre eeeh ne sprechiamo a vostro servizio siate prudenti bene facciamo così ne puntiamo 6 e e spieghiamo commenti dei compagni in basso si poi facciamo una missione in fondo si intendono di raggiungere il nemico trasportano le pache eeeh fine pache eeeh non scherziamo f io spero che andrà bene chi sei tu in guardia sei una stiappa addio chi sei tu eccoli là ti ho visto difendi bambi rimani a portata di tiro canaglia morirai per consideralo fatto si parte ti ho visto in guardia chi va là mostratevi in guardia non ti muovere difenditi rimani a portata di tiro avanti in guardia mi fa c'è il dietro vieni a batterti codardo vieni qui sacri pante yoohoo c'è altro si Noi potevamo anche completare questo, quindi... Oh! Attacca, Pentiana! Ok, abbiamo anche sconfitto i nemici, quindi abbiamo preso un basone in più. Ok, che cazzo? A notti che mi sono organizzato un concorso di... Ma va a cacare. Allora, adesso noi ci compriamo un altro. 4.000 bisogna. E adesso possiamo giocarci una missione e vincere. Oh! Non ti muove, mi sono preso un colpo! Andiamo, noi tuppi di Gianni, di Giovanni sono in debomite. Vabbè, dobbiamo... Madonna quanti morti! Sono un sacco, ragazzi! E ora? E' un sacco! E' un sacco! E' un sacco! Andiamo! Non ho fatto un sacco! E' un sacco! Brigante! No! No! Prendi questo! Avvivo! No! F... Ok, adesso siamo... Oh! Sono qui! Senza di me! Ah, dove vai? Gli arcieri dietro! Fa male! Ma la te cosa è tu! No, per sbaglio! Scusa! Ok, gli ha dato un cazzottone, gli ha dato... No, no, sale il marino! Fa male! Fa male! Pim! Fermo là! Infilo! Sono il migliore! Gli arcieri dietro! Ahah! Pim! Ok, andiamo qua sopra noi! Noi ci spostiamo qui! A vostro servizio! Attenzione! Laggiù! Arriva qualcuno! Sono loro! Allarme! Hanno gli archi! Cosa? All'ottia! Consideralo... Presto, presto, ammazziamo! Ti ho visto! Aspetta, tu però... In guardia! Fuggiamo! Bandito! Laggiù! Arriva qualcuno! Sono loro! Allarme! Cosa posso fare per voi? Ti ho visto! Vieni a batterti, codato! All'ottia! Laggiù! Arriva qualcuno! Sono loro! Allarme! Andiamo! Rimani a portato di tiro, canaglia! Ebbene... Non ho più munizio! È morto! Robin Hood! Per servirvi! Vergente! Cosa c'è, soldato? Vergente! Un nemico, credo! Dove? Di qui, soggetto! Guardia! A me! Come guardia a me? Che cazzo! Al vostro servizio? Ti ho visto! Cosa sto per vedere? Laggiù! Arriva qualcuno! Sono loro! Allarme! Ma che cazzo? Ma che... Abba vesti! Mi vuole! Gli arcieri dietro! Ti ho visto! In guardia! Ho sentito un rumore! Ti sei battuto bene! In guardia! In guardia! Gli arcieri dietro! Oh mio Dio! Arriva qualcuno! Sono loro! Allarme! 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 Senti di me! Adoro che sto combinando! È un macengo! È un macengo! Aio! In guardia! In guardia! In guardia! Sì, vabbè, ma questa è quasi come città! Mannaggia! No! All'attacco! All'attacco! Dobbiamo riprendere questa zona subito! Perfetto! Laggiù! Arriva qualcuno! Sono loro! Attia! Attia! Ah! Andiamo! Perfetto! Oh cazzo! Infila! Sono pronto! Mi andrebbe proprio una tazza di te! Cosa ne dite? Abbiamo liberato anche questo! Infila! In Scarlet! Oh io! Stentate! Chi mi vuole a ribadire il cielo! Non ti muove! Non ti muove! Ti sei tu! Non ferma! Ma dito! Attenta te! Non fa male! Vamo di nuovo! È per una buona causa! È per una buona causa! Madonna! Andiamo! Oh è questo? Per dirci! Non mi si lascerà mai tranquillo! Vabbè dai! Fermo! Andiamo qua sopra chi c'è! Per sicurezza! Dobbiamo essere sicuri! La battaglia è quasi finita comunque! Non pensavo che ci fossero così tanti blasoni qui! Quindi molte missioni potevo anche non farne! Ho sbagliato! Non mi ricordo! Oh! In guardia! Che vada Robin un attimo! Dobbiamo andare qua! Presto! Abbiamo preso... Hai vinto una missione e vuoi andare... No! Non me ne voglio andare! Dobbiamo conquistare derby! In tutto e per tutto! Non mi interessa! Aia! Madonna! Bim! Ma mi vedete o no? Chi ha il vostro genito? Che oddio! Sì! Oh mio! Eccomi! Ebbene! Eccomi! Vieni di un piede a sbagliare il fagello! Oddio ma qui non deve essere scatolocco! Che cosa posso fare? Oh! Ah pazzi! E secondo te non andavo? Eh si deve uccidere ragazzo! C'è altro? Scontro! Robin il brigante! Allora ti sei deciso a gettarti tra le fauce del lupo! Vieni a costituirti! Il mio boia sarà entusiasta di fare la tua conoscenza! Giammai mio signore! È la mia lama che desidera incontrarvi! Permettete che ve la presenti! Non ti preoccupare! Lascerò abbastanza di te accio che i miei uomini possano distrarsi! In guardia! Fammi vedere il tuo anacosti! Senti che ero vivo non è possibile! Bonca puttana! Mamma mia! E l'abbiamo ucciso! Signori, Debbie è nostro! Due compagni nuovi! Questo è importantissimo! Alcuni degli uomini che avevano mandato in missione di spionaggio sono di ritorno! Ah! Ok, bene! Ok ragazzi! Allora, Derby, Neister e Lincoln fanno parte di Greg Riccardo! Adesso andremo a Nottingham! Però questo lo faremo nel prossimo episodio! Va bene ragazzi, ecco come il video finisce qua! Spero che i video vi sia piaciuto! Nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate! E noi ci vediamo a Nottingham! In un minuto di un'agenda of share! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!